Musica Sabato 8 ottobre 2022, buongiorno, ben ritrovati dalla redazione di Teleregione Molise. In apertura la politica, i quattro parlamentari eletti ringraziano il Molise ieri, Cesa, Lotito, della Porta e Lancelotta hanno incontrato gli amministratori e ribadito che faranno di tutto per portare la piccola regione fuori dalle secche. Sanità, infrastrutture e lavoro, i settori su cui intervenire con decisione. Il servizio di Pierluigi Borracini. Sono passati un po' di giorni, le sensazioni quali sono? A mente fredda? Beh, sensazioni molto belle, essere stati accolti in maniera straordinaria, un popolo straordinario ci ha spinto a fare una campagna elettorale cercando di parlare non solo con gli amministratori ma insomma anche con la gente comune per capire quali erano i problemi di questa piccola ma splendida regione. Ora è il tempo del fare, quindi aspettiamo che nasca questo nuovo governo che sarà un governo fatto da persone che si conoscono ma già in questa settimana si è lavorato per affrontare il tema della viabilità, il tema della sanità, abbiamo cominciato ad avere degli incontri insieme a Claudio, Lotito per cercare di affrontare le cose dette in campagna elettorale. Iniziamo subito dal tema della sanità che penso sia una delle voci più indispensabili da risolvere, atteso che è l'unica regione che è rimasta commissariata, oggi ho già approfondito le tematiche rivolgendomi alle istituzioni proposte in carica, stiamo aspettando chiaramente il valo del nuovo governo, mi auguro che il nuovo ministro della sanità abbia quei requisiti di sensibilità e oltre che di chiaramente scontato di competenza per poter risolvere questo problema che è un problema increscioso. Dobbiamo aiutare il Molise a uscire dalle secche dei problemi più grandi che ha, in questo momento noi abbiamo un problema serio sulla sanità, i nostri ospitali muoiono perché mancano i medici, quindi dobbiamo affrontare un decreto che disponga risorse necessarie per garantire l'uscita dalla fase di commissariamento e nello stesso decreto, perché no, prevedere anche la possibilità di infrastrutturare meglio la nostra regione, la biferniera abbiamo detto, è una strada che è sospesa sull'acqua, non ha una vita eterna. Abbiamo tantissimi giovani sul nostro territorio che purtroppo debbono andare via perché manca il lavoro, allora bisogna investire sulle piccole e medie imprese, Fratelli d'Italia ne ha parlato anche nel suo programma nazionale con la defiscalizzazione e l'abbassamento del accogno fiscale e il motto fondamentale è più assumi meno paghi, ecco, noi faremo del tutto, insisteremo tanto su questa tematica, abbiamo anche la tematica della stabilizzazione dei precari, delle partite IVA, del personale Covid, insomma, sono tanti i temi che dovremmo affrontare, soprattutto in un momento molto difficile come questo, perché governare in questo momento sarà davvero difficile per la questione anche del caro bollette. E poi il coronavirus con il bollettino diramato dall'azienda sanitaria regionale, nessun decesso, fortunatamente, nessun ricovero, sono due dimessi e così il numero di degenti al Cardarelli scende a 10, 107 invece i nuovi positivi, 8 al molecolare, 99 all'antigenico, su 440 esami processati, tasso di positività si attesta al 24,3%, 108 invece sono i guariti, gli attualmente positivi 4.117. Iniziamo la nostra rassegna stampa, come di consueto partendo dal regionale primo piano Molise, nel centro pagina troviamo la politica, Cesa e Lottito tornano in Molise, tempo di fare le cose dette, due parlamentari hanno salutato decine di amministratori a campo di pietra, in attesa che si insedi il governo, primi incontri sulla sanità presto fuori dal commissariamento, platea nutrita, al tavolo pure l'ancellotte della porta, centrodestra unito per vincere anche alle regionali. Andiamo poi a leggere l'interno di primo piano Molise che cambia il tema, aspettando il generale inverno, la crisi energetica divide il Molise in zone, l'accensione è ritardata di 15 giorni, è giù di un grado, a Campobasso si parte il 22 ottobre, a Campomarino il 22 novembre, nessuna limitazione invece per quanto concerne Capracotte, qui infatti c'è anche la pagina, la foto in pagina con le varie zone climatiche e anche l'Italia che viene divisa per diverse zone. Torniamo nella nostra prima pagina per leggere le altre notizie con la sanità Isernia, nuovo ospedale, nominata la commissione per scegliere il sito, l'iter procede spedito che a Strataro ha proposto tre aree, colle in Pergola, l'acqua sul Furia e San Lorenzo. Poi dentro la notizia, Vinchiaturo, l'antico panificio d'Aquila non ha retto il colpo del caro bolletto, 83 anni di lavoro in fumo, poi gli aumenti, il caro energia, costi alle stelle, a rischio chiusura alla piscina olimpionica di San Giuliano di Puglia. Poi riscaldamenti, l'abbiamo letto anche all'interno di Primo Piano Molise, la fascia climatica di tutti i comuni molisani, solo tre i paesi senza limitazioni. Ancora gli ACP a Boiano, divorati dall'umidità e alloggi sprovvisti di termosifoni, vergogna infinita e poi post voto Lega Pascale, coordinatore provinciale di Campobasso. Poi nel taglio laterale il punto necessità a cura di Giovannino Cornacchione. Nel taglio alto invece, come di consueto lo sport, Termoli, arriva un altro rinforzo, il centrocampista Antezza è giallorosso. Lupi, il molisano canadese Pastò, entra in società venduti quasi 300 mila biglietti per la trasferta di Boiano. Isernia invece, la squadra di De Bellis si prepara per l'Ururi e punta alla quinta vittoria. Diamo adesso uno sguardo anche ai quotidiani nazionali, partendo dalla Repubblica. Nel centro pagina, prima lite, Italia-Francia. Tensioni sui diritti, Meloni attacca Parigi dopo l'intervista della ministra Bon Repubblica. Basta con le ingerenze, interviene Mattarella. Rispettiamo i valori dell'Unione. Macron lavoreremo con chiunque sarà scelto Premier. Sul gas, i 29 ancora sono divisi e Draghi avverte in gioco l'unità dell'Unione Europea. Poi nel taglio alto, invece, quanto riguarda la guerra in Ucraina, il Nobel per la pace e dissidenti anti-Putin. E poi monito di Biden al Cremlino, attenti all'armageddon nucleare. Diamo uno sguardo anche alle altre notizie. Nel taglio laterale, la rivolta alla Jihab, la bugia dell'Iran, Maas Amini, uccisa da una malattia. Dalla Repubblica, diamo adesso uno sguardo anche alla prima pagina del messaggero. Nel centro pagina, la politica. L'Italia sa badare a se stessa. Mattarella scende in campo contro le ingerenze straniere sulle scelte elettorali del Paese. Meloni, la politica estera non cambierà, il Premier preoccupate a Bruxelles? No, sono solamente curiosi. Poi nel taglio alto, sempre la questione energetica, gas, pressing, Draghi sull'Unione Europea. Si è perso tempo, dal tetto al prezzo ai fondi comuni, si decide tra dieci giorni. Poi alta tensione tra Stati Uniti e Russia. Biden evoca l'armageddon nucleare, la Casa Bianca però frena nessun segnale. Poi la riforma, addio alla gazzetta ufficiale, concorsi pubblici, soltanto digitali, in quattro mesi dall'esame al posto. Poi ancora le altre notizie. Furgone e controtir, la strage dei disabili sull'autostrada killer. Tra i sei morti l'accompagnatore, l'ex sindaco di Riccione, sulla quattro, già 16 vittime da gennaio. Poi nel centro pagina, ancora, lei è inghiottita dallo tsunami in Giappone, lui è diventato sub. Da 11 anni cerco mia moglie in mare. Dal messaggero diamo uno sguardo adesso anche alla prima pagina del tempo. Sempre gli attriti tra Italia e Francia. Nel taglio alto, attacco a Meloni. Cari francesi, state sereni. Da Parigi, veleni su Giorgia, la ministra di Macron, vigileremo sui diritti in Italia. Leader di Fratelli d'Italia, però furiosa, gravissima ingerenza, mi aspetto una smentita. Pure Mattarella reagisce, sappiamo badare a noi stessi. Eliseo costretto successivamente ad un dietro fronte. Poi nel centro pagina, Nobel per la pace, agli anti Putin in Russia, Ucraina e Bielorussia. Ma ancora stand e maxi schermi alle partite per spiegare le opportunità della Kermess. Expo arriva anche allo stadio. Poi, allerta di Biden. Lo zar può scatenare l'armageddon nucleare. Poi, la politica nel taglio laterale. Le mosse della Lega. Salvini chiede di guidare il Ministero della Famiglia. E poi ancora, nulla di fatto al vertice di Praga contro la crisi energetica. leader europei, ancora in alto mare. Dal tempo, ci spostiamo adesso alla prima pagina del Fatto Quotidiano. Nel centro pagina, la questione bellica, atomica, opace. Joe evoca l'armageddon. Erdogan sente lo zar. Lo scopre anche Biden. Con Putin, meglio trattare. Poi ancora, viso USA a Zelensky. Blinken, ore negoziati. Ma il cremelino non si fida. E Kiev attacca i pacifisti. Nel taglio alto, poi, favori e voti. Perquisito il Presidente Bardi. Retate in Basilicata. Big di Forza Italia e Fratelli d'Italia. Indagati. Ancora, tanti tecnici rifiutano. Il 21, l'incarico Meloni. E il MEF è ancora vuoto. E poi parla Gianni Cuperlo. Anche i DEM siano in piazza per i negoziati. Nel taglio basso, poi, le altre notizie, prove di convivenza. Covid, contagi alti, ma con danni limitati. Dal Fatto Quotidiano ci spostiamo adesso alla prima pagina della verità. Nel taglio alto. Niente soldi per le bollette, però per i trans li troviamo. Non è vero che gli ariuti non arrivano perché il governo dimissionario ha le mani legate. Quando vuole, agisce e come. Approvati anche i nuovi interventi straordinari per Kiev. E poi, la Francia vuol vigilare su di noi, ma la Meloni insorge. È ingerenza, questo nel centro pagina. Poi, ancora, la sinistra farà opposizione a colpi di Covid. Daletta a Ricciardi stanno già preparando il terreno, suonando i tamburi dell'allarmismo. sarà un'offensiva asfissiante appoggiata dall'apparato mediatico e con il rischio concreto che trovi quinte colonne nell'esecutivo. Dalla verità, diamo uno sguardo adesso anche alla prima pagina del manifesto. Nel centro pagina, Belli Ciao, il Nobel per la pace 2022, va a tre diversi esempi di resistenza. In Russia, Begliorussia e Ucraina, che insieme dimostrano il significato della società civile per la pace e la democrazia. Un regalo amaro per i 70 anni di Putin, ma anche Kiev. La condivisione del premio suscita polemiche. Ancora, sempre sul manifesto, il capo dello Stato interviene dopo le parole della ministra francese, Macron smorza i toni, Mattarella fa scudo alla futura premier. Poi ancora, intervista a Fratoiani, costruire l'alternativa con Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Nel taglio basso, invece, le altre notizie. Un anno fa, l'assalto fascista, CGL in piazza per il lavoro e contro il Karovita. Ancora, poi, la cronaca, la rivolta in Iran, le bugie di Teheran sulla morte di Massa. Dal manifesto, adesso, diamo lo sguardo alla prima pagina del quotidiano economico del Sole, 24 ore. Nel centro pagina, pensioni, due mesi per lo stop alla Fornero, conto da 30 miliardi per il nuovo governo, previdenza, tempi stretti dopo la fiducia per evitare il ritorno integrale alla legge Fornero. Spesi 23,5 miliardi per l'inflazione ed altri 5,6 per quota 41 più altre misure. Poi, ancora, sempre nel centro pagina, gli Stati Uniti aprono alla cannabis, più 34%, l'indice del settore. Nel taglio alto, invece, anche guerra in Ucraina, Biden, apocalisse atomica, poi la Casa Bianca frena, Zelensky rincara, Putin prepara i russi al nucleare. Ancora, nel taglio basso, Draghi sull'energia, nell'Unione Europea qualcosa si muove, emergenza, prezzi, piccoli passi avanti al vertice informale di Praga, proposte dettagliate il 20 di ottobre, ma ancora borsa giù, lo spread vola a 250. Dal sole 24 ore diamo uno sguardo adesso anche al quotidiano sportivo della Gazzetta dello Sport. Il centro pagina è dedicato al big match di questa sera, Milan-Juventus, ore 18 San Siro, tutto esaurito, un sabato da Leoni, Pioli e Allegri, con un solo obiettivo, vincere dopo i K.O. con Napoli e Chelsea. I rossoneri devono riprendere la corsa, i bianconeri, a meno 7 dalla vetta, non possono più fermarsi. Le Aovlaovic, che comanda 8 grandi ex, votano il migliore. Poi un taglio dedicato anche all'Inter, i nerazzurri provano ancora a riaprire il campionato, missione in più per Martinez, deve interrompere il digiuno. E poi nel taglio basso, il traguardo del tecnico con l'Atalanta, Gasperini festeggia 300 panchine, insegue Ciolo, Klopp e Pep Guardiola. Prima di salutarci diamo uno sguardo anche al nostro palinsesto, alle ore 11 conto alla rovescia, alle ore 13 camminando molise, alle 14 la nostra informazione in diretta con il telegiornale, alle 16 conto alla rovescia, alle 19.30 il nostro telegiornale, alle 21 Paese Mio, alle 22.30 Italia Economia, alle 23 l'ultima edizione del nostro telegiornale. E non mi resta che salutarvi, a tutti voi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.